Bene, benvenuti a questo nuovo appuntamento con 10 minuti con, un'occasione per conoscere i candidati alle prossime elezioni amministrative ed europee. Quest'oggi siamo con Lucia Centillo, candidata alle elezioni europee, quindi al Parlamento europeo per il Partito Democratico. Ciao Lucia. Ciao a te, ciao a tutte e a tutti. Un momento per conoscere i candidati, quindi chiediamo a Lucia di presentarsi. Chi sei? Io sono Lucia Centillo, sono da tanto tempo in politica, in un modo un po' atipico perché a me piace anche moltissimo il mio lavoro. Sono un'infermiera, dirigo il personale infermieristico e ostetrico del Dipartimento Materno-Infantile dell'ASL T1, quindi di più del 50% della città di Torino. Insomma un lavoro impegnativo, un lavoro in mezzo alla gente, ma un lavoro che immagino ti dia grandi soddisfazioni? Molto, molto interessante, molto bello perché mi occupo prevalentemente di donne e di bambini in tutto l'ambito che va dalla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e anche molto proiettato appunto nel campo della prevenzione. Quindi a volte si è a contatto con la sofferenza ma si è anche molto a contatto con la promozione della salute. Ecco, hai detto che da tanto tempo che sei in politica, in che senso? Sono consigliera comunale dal 2001, quindi da quando è stato eletto sindaco Chiamparino, per cui ho partecipato in consiglio comunale a tutte le decisioni e al programma amministrativo che ci ha portato alle Olimpiadi del 2006 e poi sono stata rieletta. Questo per me non è stato un punto di partenza e neanche un punto di arrivo, fa parte di un percorso perché da sempre sono stata impegnata sui temi della partecipazione, in particolare per ciò che riguarda la tutela della salute, il servizio sanitario nazionale e le questioni femminili, i diritti delle donne e così. Quindi sono stata impegnata prima nel PC, poi nel PDS, poi nel DS e dal PDS in poi sono stata la segretaria dell'area tematica della salute, quindi del pezzo di partito che si occupava di salute e di sanità. Ecco, un momento questo importante della tua candidatura alle elezioni europee, perché il Parlamento europeo è un organo fondamentale per la vita di tutti i giorni, molto spesso ci dimentichiamo che l'Europa sta diventando sempre più un'unica grande confederazione di nazioni, quindi la maggior parte delle leggi italiane devono rispondere a delle direttive europee. Sì, l'Europa conta per le cittadine e i cittadini italiani ben più di quanto noi stessi siamo consapevoli. Per me è stato ovviamente un elemento di grande orgoglio quando mi è stato chiesto di rappresentare nella lista del mio partito una candidatura femminile in grado di portare i principi in cui credo in Europa. Ci tengo veramente molto a sottolineare questo. Io punto molto sui giovani che hanno a cuore l'Europa forse più di quanto e hanno più consapevolezza dell'Europa rispetto a quanto ce l'hanno le persone più adulte, quelle che hanno visto nascere l'Europa ma hanno vissuto meno l'Europa. I giovani sono nel campo dei diritti e rispetto all'abbattimento anche delle frontiere molto più sensibili, molto più attivi di quanto lo siano le generazioni precedenti, che spesso vivono l'Europa più come un limite. Si ha l'idea che dalla moneta unica ci siano stati problemi. Non è così. Oggi se non avessimo l'Euro la nostra crisi sarebbe ancora molto più grave. Certo è che per tutta una serie di circostanze, adesso non abbiamo il tempo di approfondire, ma ci sono state delle grosse responsabilità, in particolare del governo Berlusconi nella precedente legislatura, per cui i benefici dell'Euro che altri paesi hanno avuto in Italia non ci sono stati, con i gravissimi problemi che hanno invece causato praticamente un impoverimento, un abbattimento del potere d'acquisto dei nostri salari, delle nostre pensioni, comunque dei nostri redditi. Immagino che tu stia riferendo ai mancati controlli sul passaggio dall'Ira ad Euro che hanno comportato un sostanziale raddoppio di prezzi. Un sostanziale raddoppio. Pensioni, salari sostanzialmente uguali, raddoppio dei prezzi, quindi caduta del potere d'acquisto. Questo ovviamente non era quello che si voleva quando si parlava di Europa Unita, ma adesso con la crisi economica sembra essere tornata di moda l'Europa e la protezione che l'Euro offre alle nostre economie. Certo, questo è molto chiaro e molto evidente, siamo più forti rispetto ad altri paesi dove la moneta unica non c'è o dove si sono fatte altre scelte. Certo è che la paura della crisi è una paura concreta. L'Europa può far molto attraverso politiche comuni che devono ovviamente partire dalla partecipazione di tutti i governi alla costruzione di politiche utili. In questo io credo che i cittadini e cittadine italiane attraverso la partecipazione al voto, e questo è un problema che a me pare prioritario, andate a votare perché io non riesco a immaginare un'Italia che va al voto con i numeri che i sondaggi attualmente fanno emergere. Secondo me esprimere il voto è un diritto fondamentale. Quindi scegliere rappresentanti in grado di favorire politiche positive in questa direzione per il superamento della crisi, per la destinazione di risorse nei luoghi giusti, nei territori giusti, soprattutto su obiettivi giusti e attraverso controlli chiari, a me sembra un obiettivo raggiungibile e un obiettivo che si raggiunge attraverso la piena consapevolezza dalle persone che vanno a votare. Quindi non solo un voto di delega, ma un voto di partecipazione attiva alla politica. Ecco, veniamo poi a quelle che sono i valori e il tuo programma elettorale, in caso tu venga appunto eletta come parlamentare europea nella zona del collegio Ovest, quindi Piemonte, Lombardia e Liguria. Davvero un collegio molto grande, sarà tosta a rappresentare quasi 12-13 milioni di cittadini. Sicuramente, io penso che in Europa sia importante parlare di diritti, l'Europa è la patria dei diritti e in questo l'Italia, il Piemonte, Torino è sicuramente capitale dei diritti. Se noi pensiamo alla storia di Torino sappiamo che portare in Europa una serie di valori, di diritti, è possibile. Abbiamo le carte in regola per poter rappresentare i diritti. In particolare i diritti delle donne, non soltanto in senso retorico o in senso filosofico, diritti concreti, diritti al lavoro, parità effettiva, redditi uguali a parità di lavoro. Ci sono delle nazioni in Europa dove l'occupazione femminile è più alta, ci sono più servizi, le donne hanno più figli. L'Italia è un paese, Torino, il Nord, sono appunto caratterizzati da una bassa natalità da parte della popolazione italiana. Ma ci sono pochi bambini? Ci sono pochi bambini, perché spesso le donne scelgono di non avere figli perché rinviano il momento o perché ritengono che non possono farcela. Ecco, un momento questo, siamo quasi in chiusura, chiediamo quindi un saluto alla Lucia Centillo, è candidata al Parlamento Europeo per il Partito Democratico. Ciao Lucia. Ciao. Votiamo, andiamo a votare tutti. Io chiedo che sulle tre preferenze almeno un voto venga dato a una donna. Io sono Lucia Centillo, mi impegnerò sui temi dei diritti delle donne, dei diritti e delle pari opportunità per tutte e tutti, per i giovani, per l'ambiente e perché l'Europa sia una grande potenza sia sul piano economico e anche sul piano della promozione della pace. Grazie. Grazie. Grazie.